22 anni fa vittoria blucerchiata con maggior scarto al San Paolo, finì 4 a 1 e andarono a segno con una doppietta a testa, Vialli e Mancini. 40, i gol blucerchiati siglati al San Paolo, l'ultimo di Pierre Legle del 19 aprile 1998. 4 gli ex di turno, tutti i tre partenopei, sono Donadel, Maggio, Campagnaro e Mazzarri. Un precedente di doveri con la Samp, quest'anno ha diretto la gara di andata di San Siro contro l'Inter. In trasferta la Samp ha fatto 12 punti dei 29 conquistati in totale. Prima panchina blucerchiata per Fedele Limone, secondo di Delio Rossi.